Un brevissimo pensiero. In questa pagina del Vangelo abbiamo un percorso di conversione. Zaccheo vuole salire più in alto, perché di bassa statura, per vedere il Signore. Ovviamente è la sua condizione fisica. Tuttavia quella condizione fisica rimanda ad una nostra condizione interiore. Per vedere il Signore bisogna salire più in alto. Bisogna vincere la nostra bassa statura. Ed è una bassa statura quando siamo schiacciati da troppe ricchezze. Le ricchezze ingrassano, non innanzano. Nel senso che, come ricchezze, vogliamo soltanto soffermarci al potere economico. Le ricchezze di orgoglio, di supermia, di presunzione. Le cupidigie che fanno parte di questo povero cuore che vorrebbero tutto e rimangono senza niente. Ma per vedere meglio bisogna salire un po' più in alto. E quando sali un po' più in alto vedi chiaro. E vedi ciò che devi scegliere. E scegliere ciò che è bene per la tua vita. Tutti criticano. Tutti condannano. Anche perché per tutti è chiaro che è difficile per uno che è grosso innausarsi. È impossibile. E tuttavia quando quest'uomo si innalza a Zaccheo, dà la metà dei suoi averi ai poveri e si è affrontato a qualcuno quattro volte tanto. Bene. È una grande lezione per ciascuno di noi. Dovrebbe essere un nostro desiderio vincere la bassezza. La bassezza. E sollevarsi. Perché solo sollevandosi si può vedere. Siamo dato Gesù Cristo.